Il primo tempo è un po' difficile, un po' duro perché abbiamo fatto tre partite in settimana, il primo tempo è normale, ma il secondo tempo abbiamo reagito e dopo abbiamo fatto una buona seconda periodo. La squadra ha reagito bene anche perché gli ingressi in campo di Perizza, di Alfredson hanno dato qualcosa in più o c'è stata solo una sveglia negli spogliatoi che Del Neri vi ha strillato e vi ha fatto riprendere bene? Il primo tempo per me è un po' stanco perché abbiamo fatto tre partite in settimana, le gambe sono pesanti, il primo tempo e il secondo tempo abbiamo parlato e tutti si sono svegliati. E poi tu hai giocato di nuovo nel tuo ruolo originale di centrale di difesa, avevi giocato come terzino nelle altre gare, come stai e come ti sei trovato? Sono molto contento di giocare la prima partita al mio posto perché è vero che ho fatto solo terzino quest'anno, non è il mio posto, ma io posso giocare tutti i ruoli quando la squadra ha bisogno di me, ma è vero che è meglio il mio posto. Sei stato anche molto importante, hai sfiorato il gol e poi hai preso il palo che poi ha portato al gol di Zabat. Sì, ho mancato due testa, ma il secondo abbiamo fatto il gol, questo è bene. E adesso arriva la partita di Genova, Genova è ovviamente una squadra difficile da affrontare, che partita sarà? Questa settimana è riposare, dopo ancora una settimana per lavoro per la partita di Genova, ma è vero che non è facile.